Eh sì, devo dire che con questa trincia Forigo TL16 mi sono proprio divertito, ma se vuoi scoprire tutte le caratteristiche tecniche e vedere le prove che abbiamo realizzato, non ti resta che seguire questa recensione. Mi raccomando, come al solito, dopo aver visto questa recensione, va in alto a destra in descrizione per andare a vedere i Trattor Vlog in cui ho utilizzato questa trincia laterale. L'abbiamo utilizzata in vari areali, dalla cura del verde più semplice fino all'agricoltore exigente che chiede una macinazione perfetta degli stocchi o la cura di siepi e arbusti molto impegnativi. Questa di fianco a me è il top di gamma delle trince laterali Forigo, ovvero il modello TL16 da 2,50 m. Ovviamente è disponibile anche con una testata di metratura inferiore, si parte da 1,6 m, 1,8 m, 2 m e 2,2 m e poi si arriva a questa 2,50 m. Se necessiti di una trincia laterale più piccola, Forigo produce anche la gamma FTL8. Ti invito ad andare in descrizione dove troverai il link al sito Forigo per consultare tutte le caratteristiche di queste due gamme. Questo modello in particolare monta ben 22 mazze molto robuste, però con una forma che gli permettono un taglio molto raffinato. Ovviamente per chi lo preferisse è disponibile anche con coltelli. Coltelli o mazze che sono agganciate a un robustissimo rotore tramite un supporto a pinna in hardox. Supporto in hardox con una piccola boccola tagliata al laser in cui si va a incassare la testa della vite a modi anti-rotazione. Quindi durante la fase di lavoro la vite non ruota e non si rovina, ma soprattutto nelle fasi di sostituzione dei coltelli o delle mazze, tramite un semplice avvitatore senza bisogno della chiave di riscontro, si può sostituire il coltello senza sforzi. Abbiamo parlato di un rotore di notevoli dimensioni, ma posso garantirvi che si è dimostrato molto robusto e con un'inerzia davvero impressionante. Questa robustezza però è su tutta la macchina. Partiamo dal fatto che non è costruita con del ferraccio, passatemi il termine, ma acciai di alta qualità. Poi c'è un attacco a tre punti che è formato da dei tubi quadri di grande spessore e non il classico arco a cui siamo abituati su queste trince laterali. In generale questi grandi spessori sono un po' su tutta la macchina e i punti più critici sono stati rinforzati con dell'hardox. Anche la cassa non è da meno, infatti è doppia, e diciamo che tutto questo si racchiude in un peso di 12 quintali. Parlando della trasmissione, partiamo con un cardano doppio omocinetico marchiato Walterscheid che finisce in questo moltiplicatore da 540 giri minuto con scatto libero. In sostanza lo scatto libero è che quando spegnete la PTO sul trattore, il trattore frena la PTO e il rotore continua a girare per inerzia fino al suo arresto naturale. Moltiplicatore che è un comer, quindi veramente tra cardano e moltiplicatore siamo una qualità veramente alta. Poi moltiplicatore esce con un albero a 90 gradi che fa ruotare una puleggia su cui sono montate quattro cinghie trapezzedali protette da questo carter. Le cinghie danno moto al rotore. I movimenti di questo trincio laterale avvengono tramite questi due martinetti, uno per lo spostamento laterale e uno per l'inclinazione della testata. Scriranno delle immagini per farvi vedere tutte le posizioni in cui può muoversi questo trincia, ma potremmo riassumere le principali posizioni di lavoro. La prima è quella così, con la testata in piano, utilizzando il pistoncino dello spostamento per muoversi e magari superare degli ostacoli sul piano. Infatti lo spostamento può avvenire anche in marcia senza nessun problema, infatti il pistoncino spinge parecchio, la macchina è robusta, il telaio è robusto, quindi la potete muovere anche in marcia facendola scivolare sul terreno. La seconda è quella col trincia sollevato in candela per poter potare delle siepi o macinare degli arbusti di grandi dimensioni fino a 8-10 cm di legno circa. L'ultima, ma non per importanza, è quella con l'utilizzo della trincia all'interno della riva del fosso. Grazie al moltiplicatore posizionato all'esterno rispetto alla sagoma di ingombro della testata, possiamo utilizzare lo sbraccio il più possibile senza danneggiare il cardano. Per lavorare in modo ottimale ci si affida al rullo d'appoggio posteriore e alle asole poste sull'attacco a tre punti e sopra la testata. Il rullo fornisce un grande appoggio e definisce l'altezza tramite le viti di regolazione. A completare il tutto, due slit laterali, anche se regolabili in altezza. Le asole e il telaio oscillante ci aiutano a seguire alla perfezione il terreno. Infatti, nonostante buche, dossi, insomma, asperità del terreno, non vedrete mai dell'erba lasciata indietro o con differenze d'altezza. Vi posso garantire che queste due asole, soprattutto quella posta sopra la testata, vi salvano la vita e vi tolgono un sacco di stress. Quando la testata ha il foro senza asola, quindi fisso, dovete essere bravissimi dei chirurghi a mantenere l'assetto piano della testata perché se no vi piantate oppure non rasate bene l'erba. Con l'asola la fate lavorare, lei segue il terreno, veramente vi toglie un sacco di stress. A completare tutto il pacchetto c'è un sistema anti-shock con doppia molla per attutire tutte le asperità del terreno e anche svincolare il trincia da degli ostacoli. Infatti, se vi agganciate, intervengono le molle e se le molle non dovessero bastare, interviene anche una valvola di scarico posta sul pistoncino del movimento laterale che lo manderà in scarico e farà rientrare il trincia per superare l'ostacolo e non piegare il telaio. La manutenzione è semplice, sulla macchina sono presenti due ingrassatori per i cuscinetti a rulli del rotore, due ingrassatori per il rullo posteriore d'appoggio e nove ingrassatori per gli sbracci e il telaio in generale della macchina. Questi punti di ingrassaggio sono tutti a vista e sono indicati da degli adesivi posti sulla macchina, adesivi che ci consigliano un intervallo di manutenzione pari a 4 ore. Ovviamente bisogna ingrassare anche questo doppio cardanomo cinetico Valteschei, ci sono degli ingrassatori con un intervallo di manutenzione pari a 70 ore circa. E infine ogni 50 ore bisogna controllare il corretto tensionamento delle 4 cinghie trapeziali. Se è necessario tensionarle l'operazione è abbastanza semplice, si mollano le 4 viti dai carter e tramite le 2 barre filettate laterali si tensionano le cinghie. Poi, piccola chicca, per un'ispezione molto rapida si può anche mollare tramite due viti del 10 questo carter superiore delle cinghie per ispezionarle in modo rapido. Ah, e quasi dimenticavo, in caso malogratamente il rotore si bloccasse per dei corpi estranei, tramite delle semplici viti si possono mollare il carter posteriore e anteriore per accedere in modo più facilitato anche il rotore. La verniciatura è di buon livello, c'è una leggera mano di fondo antiruggine e a coprire il tutto un'abbondante mano di rosso forigo lucido. Poi, parlando di finiture, la macchina è finita veramente bene. Non ci sono piastre taglienti o con spigoli vivi, le saldature sono in ordine pulite, quindi veramente ottimo. Ovviamente non mancano le chicche, come il porta canne numerato. E a proposito di canne idrauliche, mi raccomando ragazzi di forigo, se mettete anche le maniglie sulle canne idrauliche, veramente raggiungiamo il massimo. Poi ci sono i piedini d'appoggio ribaltabili per non doverli svitare una volta agganciata la macchina o viceversa avvitarli per ricoverare la macchina all'interno di un garage. C'è anche un gancio porta cardano per facilitarsi nelle fasi di aggancio, sgancio o comunque sempre ricovero dell'attrezzatura. I tubi idraulici hanno una protezione telata, direttamente crimpata sul raccordo. Questo principalmente per proteggere il tubo idraulico dallo sfragamento, dall'abrasione, ma anche la verniciatura. Se fosse direttamente in gomma, sicuramente la verniciatura si consumerebbe prima. Poi c'è il tubo porta documentazioni per l'operatore, che mi sembra una buona posizione perché non l'ho ancora rotto, quindi vuol dire che è una buona posizione. E infine abbiamo un tacco che funge sia da protezione per il moltiplicatore, ma ci permette anche di posizionare la macchina in candela una volta terminato il lavoro. E adesso eccoci arrivati alla mia rubrica, l'angolo dei difetti. Come dico sempre, sono più consigli che do al costruttore, ma in questo caso non c'è nessun difetto, non ho nulla da segnalare. Più che altro vorrei fare con voi delle considerazioni. Nei video che avete visto sul canale o che vedrete dopo questa recensione, mi avete sempre visto andare a velocità molto sostenute, molto forte anche su stocchi a 12 km orari. Ecco, il mio personalissimo consiglio, dato che ci sono delle cinghie in gomma, come trasmissione dal moltiplicatore, il mio consiglio è sicuramente di moderare la velocità per salvaguardare la salute e la vita di queste cinghie. La macchina è tarata per circa 140 cavalli, io l'ho utilizzato con un serie 7 da 170 cavalli, quindi ero oltre la potenza richiesta. E infatti magari quando entravano delle grosse masse di materiale all'interno della testata, non me ne accorgevo nemmeno perché il trattore non calava neanche di un giro. Magari in quel momento qualche volta la cinghia è slittata, soprattutto a quelle velocità, e di conseguenza si è consumata magari leggermente o gli ho accorciato la vita. Di conseguenza per prevenire questa cosa andate un po' più tranquilli rispetto a quello che avete visto. Poi la macchina, l'avete visto, è un carroarmato e non si ferma davanti a nulla. Le cinghie sono un po' un limite, ma anche un vantaggio. Sicuramente rendono la macchina molto più economica nell'acquisto rispetto magari, non so, a un cardano frizzonato e una scatola ingranaggi laterale, e poi fungono da fusibile. In caso il nostro rotore si dovesse bloccare, non so, ormai gli incivili per strada buttano pure i frigoriferi dentro nell'erba, quindi se vi entra un frigorifero dentro al TL16 e si blocca il rotore, le cinghie si rompono e vi salvano tutto con una spesa di pochi euro. Poi se vogliamo essere veramente pignoli, un piccolo consiglio a Forigo voglio darglielo, che probabilmente non è neanche colpa del costruttore. Le catenelle che servono a non perdere la spina di sicurezza delle spine dell'attacco a tre punti si rompono subito, battono contro l'erba e purtroppo le perdete in giro nell'arco di un'ora probabilmente. Come dicevo, non penso sia colpa direttamente di Forigo, perché avrà il suo fornitore di queste spine, di queste catenelle. Quello che consiglio Forigo è di eliminare l'occhiello porta catena e di saldare direttamente la catenella sopra la spina, e secondo me così non si dovrebbero più perdere. Ora parliamo delle prove fatte. Ho passato in compagnia di questo TL16 circa 30-40 ore di lavoro, come vi dicevo, in vari areali. Il trincia si è dimostrato sempre molto affidabile, robusto, insomma, ve l'ho detto, un carro armato inarrestabile. Le mazze sminuzzano i materiali in modo davvero eccezionale, anche se legnoso. Ad aiutarle ci sono due set di controcoltelli, che sul materiale leggero fanno veramente la differenza, fa l'effetto di un trattorino alla serba col piatto di taglio. Ve l'ho fatto vedere anche nel video in cui abbiamo pulito la cava. E poi a completare il tutto si vede che c'è uno studio della forma della cassa e di gestione di flusso del materiale, che veramente viene convogliato in modo eccezionale. In sostanza la macchina ha una grande operatività. Macinate un sacco di materiale veramente in pochissimo tempo. Invece, scendendo nel dettaglio delle prove, ci sono state due prove principali. Una dove ho pulito la mia cava e i fossi circostanti. In quella prova l'ho utilizzata sia in piano che all'interno delle rive ed erano presenti arbusti, salici, canne d'india, cannuccia di fosso, carice. Insomma, erba molto importante, dura a macinare. Ma come vi ho detto, vi invito ad andare a vedere il video che trovate in alto a destra. E grazie a tutti gli elementi di cui vi ho parlato poco fa, si è comportata in modo eccezionale. Accoppiata a un Landini Serie 7 170 6 cilindri, 170 cavalli, ha consumato una media di 15 litri ora circa. Ovviamente questa cosa dipende molto dal trattore. Può essere utilizzata anche con un trattore leggermente più piccolo, ma non andate mai sotto i 140 cavalli, perché comunque al di là dello sforzo del rotore c'è da gestire un grande peso. Però come vi dicevo, dipende molto dal trattore che abbinere a questa macchina. Ecco, il cantiere che ho utilizzato in questa situazione ha consumato una media tra i 13 e i 15 litri ora. Situazione che definirei mista, perché? Perché ci sono tante retromarce in cui la macchina non lavora, in cui la macchina è alzata, poi magari prendete metà barra, poi la prendete tutta, poi c'è un arbusto, poi c'è dell'erba leggera, quindi ha un utilizzo molto misto. Seconda prova su stocchi di mais. Dato che la maggior parte di quelli che guarderanno questo video sono agricoltori, ho deciso di provarla anche su stocchi di mais, ma vi ricordo che è una trincia chiusa, non scarica il materiale come un trincia stocchi. Forigo produce anche trincia stocchi, che vi invito ad andare a vedere sul loro sito. Comunque ho voluto provarla, perché immagino l'agricoltore che si pulisce le rive dopo la trebbiatura e poi si macina anche gli stocchi, un po' come ho fatto io nel trattor vlog dedicato. Anche qui il trincia laterale ha polverizzato letteralmente gli stocchi. Il consumo, sempre con l'andini serie 7, è stato di circa 19 litri ora. Ovviamente è normale che aumenti, perché nel caso degli stocchi di mais c'è molto più materiale e soprattutto la barra di taglio lavora sempre piena. Queste sono state le prove che ho effettuato. Ovviamente sui canali social di Italian Farmer trovate tutti gli approfondimenti. Siamo arrivati alla fine anche di questa recensione. Ovviamente ti ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Ringrazio Forigo per la fiducia in questi di Italian Farmer Test. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e seguimi su Instagram. E noi ci vediamo nel prossimo di Italian Farmer Test. Ciao!